E qual è il trucco per decidere quando venire? Ah non c'è un trucco, se io faccio partire il mio ricordo, ero partito al bagno nella prima scena appena sono entrato in questo appartamento a Parigi, calze a rete, giarrettiere, tacchi a spillo, chi l'aveva mai vista? Allora sono andato direttamente nel bagno perché ero convinto di fare una brutta figura, appena siamo partiti l'ho fatta comunque, pensa come mi frega il francese. Andre Vinus mi vede eretto con la tipa così che aspettavo e lui in ginocchio che si metteva, dicevo ma perché si metteva, cosa fai? Ma anche perché per me era normale, cioè la presenza della donna vuol dire erezione, poi nuda cioè che devi fare no? Lui si metteva in ginocchio così, il paraculo e c'era Sharon Mitchell, non lo dimentico mai, è un'americana, questa mi fa do you want me to keep you hot? Quindi me lo succhiava, a un certo punto, mentre me lo succhia a un certo punto io parto, che ne so, cioè non sapevo dell'orgasmo come tenerlo. Io vengo e lui si alza, all'istante si alza duro e fa on y va, on y va. Io ho allucinato, il regista ricou, ma che stai fai? E gli ho detto, non capì, era la prima scena, ma era una tecnica per fregarmi, lui ha aspettato apposta per farmi, e lì ho chiesto fammi riprovare, fammi riprovare Ricou, ti prego, ti prego, sono andato al caffè, alla brasseria, ero a Parigi, ho chiesto quattro camomille per cercare di calmarmi, ma ho avuto quello che mi hanno fatto riprovare, perché per via della dimensione e tutto il resto mi hanno fatto, ma ha aiutato lui diciamo. Grande, fedele compagno di sempre, il migliore amico. Bravo, bravo, guarda che quando fai questo lavoro per tanti anni diventa il migliore amico, perché tanti di noi se lo guardano, vogliono capire se è grande, se è bello, le donne, ma tanti lo usano, magari lo guardano ogni tanto. Per me era veramente l'amico, io ho avuto molti, molti situazioni complicate con lui, operazioni, dentate, morso per staccarmelo, ho avuto tante di quelle situazioni. Circoncisione senza anestesia? Circoncisione senza anestesia, circoncisione con anestesia, poi la mattina ti svegli alle 6 di mattina e vedi lui, apri, si sono strappati qualche 5-6 punti, tu torni al medico e il medico ti fa andare nel suo laboratorio a Pescara, me l'ero fatto dopo il funerale con mia madre, e il dottore mi disse, Rocco, mi dispiace qua non ho i farmaci per fartelo addormentare, ma faccio veloce. Mi ha messo un bel panno in bocca, pum, il dolore più grosso della tua vita? Il dolore è terribile, però non è più grosso, il più grosso è venuto dopo, quando ho avuto altri problemi sempre attinenti a questa roba qua della circoncisione. O devo dirti, io avere l'uomo grande è bello perché è fotogenico, nel porno, però poi ci sono tante attività che non puoi fare, tipo ragazze che vogliono fare il famoso deep throat, sono quelli che mi hanno distrutto di più. Perché io che fai? Una ragazza vuole fare americana il deep throat, tu lo fai, te lo fai fare, e lei con tutti i canini non fa altro che solcarti tutto. Quando lo tira fuori, oh sorry, I found you up, sorry about that, però lei non sa che il giorno dopo devi lavorare, l'altra ancora, e c'hai tagli sanguinanti che dovresti far chiudere, ma che non si chiudono, il giorno dopo di nuovo, e il giorno dopo di nuovo. Mi ha assicurato ovviamente. Avevo provato ad assicurarlo alla Lloyd's di Londra negli anni 90 e hanno fatto in modo di non farmelo assicurare perché volevano che facessi un certificato medico prima e dopo ogni film. Ragazzi, io giro tutti i giorni che stiamo giocando. Comunque tutti pensano che il porno è bellissimo, si gode e basta. No, allora, il porno fatto professionale è un lavoro, lo devo pure fare, facciamo il porno. C'è il lato positivo che sei a contatto con le donne, il lato negativo che non te la godi. Questa è la verità. Il mondo di oggi ti permette forse di divertirti di più, però non stai facendo qualcosa che lascia un ricordo indelebile di te. Quindi, se tu mi dici Rocco Siffredi, Stardio, non sarei mai diventato nessuno. E' la domanda che stavo per fare. Come mai non aprire un... No, oggi sono troppo vecchio, potrei fare un... Per le vecchie, però per quanto riguarda proprio il discorso di diventare un personaggio, io sono diventato quello che sono diventato perché ho fatto un percorso dagli anni 80 ad oggi. Certo.